Ben ritrovati a tutti, proveremo ora ad addentrarci alle questioni esplorative relative alla composizione e scomposizione di figure. Per partire analizziamo i risultati di questa domanda per il grado 0,5 somministrata qualche anno fa. Si richiede di osservare un quadrato, una figura che è un quadrato disegnata su una quadrettatura in cui è definita la metrica di un centimetro e la domanda diretta è quanto misura l'area della parte del quadrato colorata in grigio. Il risultato corretto è 20 centimetri quadrati. I risultati fanno riflettere. Infatti osserviamo che per una classe quinta solo poco meno di un quarto del nostro campione nazionale riesce a fornire il risultato corretto. C'è una grande percentuale di risposte non corrette e questo ci deve far riflettere. Che cosa può essere successo? Proviamo ora ad analizzare alcune possibili strategie che forniscono la risposta corretta. Innanzitutto se non ci fosse un lavorio sulla figura grigia, sulla parte della figura che mi interessa, difficilmente si riuscirebbe a ottenere un risultato. Infatti le due principali strade vincenti sono quelle che andiamo a vedere ora. La prima è partire dalla figura e scomporla internamente, quindi portandosi, riportandosi a figure più semplici e note, delle quali è facilmente calcolabile l'area. Una seconda possibilità è invece di quella di aggiungere dei pezzi adeguati, per così dire, delle forme adeguate, affinché anche in questo caso ci si possa ricondurre a rettangoli, per esempio, dei quali poi la metà, che è quella che ci serve, è facilmente calcolabile. E qui si tratta quindi di un comporre, di un aggiungere esternamente dei pezzi affinché proprio si possa tornare a una situazione più nota. Certamente un'altra possibilità, tra l'altro praticata da alcuni alunni, qui abbiamo un protocollo originale, è quella di individuare il trapezio al quale però è stato tolto un pezzo. E quindi, per calcolare l'area che sto cercando, si può calcolare l'area del trapezio, alla quale però è necessario togliere due centimetri quadrati. Quindi questo item, questa domanda, ci fornisce diverse possibilità di strategie. L'attenzione didattica a questi aspetti legati alla composizione o scomposizione di figure è necessaria e fondamentale a tutti i livelli scolari. Prendiamo, ad esempio, ora questa domanda posta al grado 6 qualche anno fa, ovvero la classe prima della secondaria di primo grado, e vediamo che viene richiesto di individuare l'area del quadrilatero FGH che è disegnato internamente a un rettangolo del quale si forniscono le misure 4 metri per 6 metri. E' sorprendente come questa domanda abbia una percentuale di risposte corrette molto bassa. Andiamo quindi ad analizzare quali possono essere stati i misconcetti che hanno portato a fornire risposte non corrette. Vediamo ora le opzioni non corrette e cerchiamo di dare un senso e delle possibili interpretazioni delle procedure sottese a queste scelte. La risposta C, 12 metri quadrati, che è stata molto scelta, è stata probabilmente opzionata da chi velocemente immagina, percepisce, che quel quadrilatero potrebbe semplicemente essere la metà del rettangolo ABCD. Non è così. Invece l'opzione A, che è anche stata scelta da poco più del 20% degli studenti, sicuramente è un'opzione che rileva sulla scia di quella precedente una certa relazione tra il rettangolo e la metà del rettangolo. Però non è sufficiente togliere uno per ottenere il risultato. Possiamo certamente dire che la sensibilità geometrica necessaria per operare, dinamicizzare, montare, smontare le figure geometriche è una sensibilità che si costruisce nel tempo. Anche per esempio attraverso l'abitudine, sicuramente prima pratica e poi un po' più teorica, a fare tassellazioni, ovvero ricoprimenti di figure senza sovrapporre. Qui vediamo una domanda somministrata qualche anno fa per il grado 2, nella quale si vede una figura un po' particolare, che è disegnata su un quadrettato, e viene richiesto agli alunni di individuare quante volte il modulo, la piastrella, in contesto che si vede sotto, deve essere utilizzata senza sovrapporla per ricoprire interamente la figura precedente. Le piastrelle non devono sovrapporsi. Quante piastrelle intere deve usare il muratore? Questa è una domanda che comunque è impegnativa, però ha un'interessante percentuale di risposte corrette. Analogamente in questa domanda per il grado 2, somministrata più recentemente, vediamo le stesse problematiche di quella precedente. Qui si richiede, in un contesto, quanto segue. Marco vuole ricoprire tutto il triangolo grigio con tesserine nere come quella disegnata, senza sovrapporle e senza uscire dai bordi. Quante tesserine nere servono a Marco? 3, 6 e 9. Anche qui si tratta sicuramente di una domanda impegnativa che richiede un'abilità, una capacità, anche una libertà, che è quella di pensare le figure con possibili anche movimenti nello spazio. Quindi pensare anche didatticamente situazioni analoghe in un contesto concreto, con cartoncini che è ovviamente più facile muovere nello spazio, possono favorire delle osservazioni, possono abituare anche l'occhio a vedere dei movimenti che poi potranno essere più facilmente immaginati sulla carta. Vediamo ora questa domanda proposta per il grado 5 che ci pone all'attenzione la necessità non solo di comporre e di scomporre figure, ma anche quella di esplorare le metriche. Mario ha disegnato una girandola grigia come quella che vedi in figura. E' disegnata appunto questa girandola che è composta da triangoli rettangoli che non sono altro che metà di quadrati e poi è definita su quadrettato la metrica. Come vedete due quadretti, due lati di quadretti, corrispondono a un metro. Quanto misura la superficie della girandola disegnata da Mario? Si tratta anche qui di una domanda che si è rivelata difficile per i nostri alunni. Che cosa può essere successo? Intanto, se pensiamo alle strategie di composizione, una veloce, rapida strategia sarebbe proprio stata quella di ricomporre quella girandola in un rettangolo, un rettangolo 1x2, del quale poi sarebbe stata facilmente individuabile, anche in questo caso calcolabile, l'area. Ma che cosa è successo? Che cosa può essere successo? Probabilmente il fatto che la girandola fosse disegnata su un quadrettato e la metrica di un metro prendesse due quadretti ha portato probabilmente a un non-governo tra immagine e metrica. Ecco allora che è importante provare a esplorare le quadrettature e anche griglie diverse. Qui vediamo la stessa figura di prima che però è disegnata in un primo caso senza quadrettatura. Il secondo caso è quello che abbiamo già analizzato. Il terzo, la quadrettatura, coincide con la metrica e invece per esempio nell'ultimo caso c'è addirittura una quadrettatura più fine. educare, abituare, educare questi aspetti percettivi perlomeno è necessario nelle nostre esplorazioni didattiche. Veniamo ora a un'esperienza veramente importante e cruciale per tutta la didattica anche per la didattica della geometria. è necessaria perché è molto profonda anche per gestire gli aspetti percettivi ovvero affrontiamo questioni di tipo argomentativo quali la pertinenza e la coerenza delle affermazioni. L'esempio che vedete è tratto dalla domanda 19 del grado 5 e la richiesta è sicuramente adducibile a una richiesta argomentativa in quanto si forniscono la figura A e la figura B che sono composte dalle stesse forme dagli stessi pezzi e si chiede le due figure hanno la stessa area osserviamo quanto sia stato necessario introdurre le quadrettature che anche queste sono da governare ma sono assolutamente identiche seppur ruotate per garantire l'equiestensione la stessa area delle due figure. Quindi una prima capacità argomentativa competenza argomentativa importante è data dalla capacità di individuare e contestualizzare coerenza pertinenza e veridicità delle affermazioni a partire da collegamenti e relazioni tra i dati e anche le affermazioni che vengono proposte. Questo è fondamentale anche per partire. Il mondo dell'argomentazione si può esplorare veramente in tante direzioni ma per arrivare a una certa autonomia argomentativa è anche importante proporre di analizzare argomentazioni fatte da altri come per esempio in questo caso. Vediamo ora come possono essere trattate da un punto di vista più argomentativo le varie opzioni proposte in questa domanda le due figure hanno la stessa area cioè sono equiestese osserviamo le due opzioni no perché le due figure hanno dimensioni diverse scelta da poco più del 30% degli alunni appartenenti al campione nazionale no perché le due figure hanno perimetro diverso scelta da poco meno del 20% degli alunni queste affermazioni sono vere è vero che hanno dimensioni diverse e perimetro diverso ma queste affermazioni non sono pertinenti per confermare l'equiestensione ed è proprio qui l'anima cruciale e anche sensibile delle argomentazioni è fondamentale percepire capire governare le relazioni e i collegamenti interni che ci sono tra le affermazioni dati che però devono essere pertinenti e coerenti con il contesto con la proposta con la richiesta questo per poter trarre prudenti conclusioni come si può convincere un alunno di questo sicuramente passando prima attraverso la fase esplorativa e molto pratica del misurare del ritagliare e del disegnare che fornisce prove empiriche dirette di quanto viene affermato le due figure hanno la stessa area sì perché i triangoli che formano la figura A sono gli stessi che formano la figura B anche in questo caso osserviamo che si tratta di un'affermazione vera e pertinente per confermare l'equestensione ed è l'unica presente tra le quattro opzioni proposte l'opzione D vediamo che è stata un po' meno scelta perché è un po' più debole la dichiarazione che si tratta di triangoli rettangoli e quindi è sufficiente per definire l'equestensione entriamo quasi un po' nel merito linguistico allora del nostro lavoro esplorativo relativo alla geometria che ci apre due mondi il mondo più tecnico più algoritmico più formulistico se possiamo così dire del calcolo è quello esplorativo leggiamo come è scritto nelle indicazioni nazionali per il curriculum 2012 per la scuola primaria è un obiettivo per la classe quinta determinare l'area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni formule soffermiamoci un attimo sul verbo determinare che apre è il verbo che dà il movimento al contenuto che viene dopo e questo verbo determinare è un verbo legato al confine al limite all'indicare come dice la Treccani con precisione qualche cosa sia direttamente sia fornendo sfruttando i dati che concorrono a renderla nota si tratta quindi di una definizione che apre prospettive legate anche fortemente ai tentativi all'esplorazione alla manipolazione e allora cosa possiamo fare quando scegliamo degli strumenti didattici per veicolare questi concetti ai nostri alunni e anche per porli in situazioni concrete affinché in qualche modo possano confrontarsi con le loro abilità vediamo ora un esempio del determinare nella sua prima accezione cioè quella del calcolare e qui vediamo una situazione standard una situazione nota molto classica che sicuramente abbiamo incontrato anche noi nei nostri percorsi scolastici in un rettangolo la base misura 9 cm e l'altezza 5 cm calcola l'area come vediamo si tratta proprio di una domanda classica per così dire poniamoci per ora due domande due domande che rilanciano su alcuni aspetti didattici quali concetti matematici si mobilitano per poter rispondere a questa domanda quali possono essere alternative a questa domanda per puntare a competenze geometriche più strutturate tecnicamente potrei anche non immaginarmelo questo rettangolo 9x5 posso anche non immaginare come sia messo come sia posto quali siano le proporzioni dei suoi lati se mi ricordo che si raggiunge facilmente l'area attraverso la moltiplicazione sarà importante riconoscere il risultato di 9x5 per riuscire a ottenere il risultato corretto ma come posso far evolvere un po' una domanda di questo tipo affinché anche da un punto di vista dell'osservazione per una valutazione formativa mi possa dare più indicazioni puntando spaziando anche attraverso due traguardi dello sviluppo delle competenze presenti dentro le indicazioni nazionali per il curriculum 2012 e pensati come raggiungimento al termine della quinta ovvero il problem solving e l'argomentazione qui li vediamo declinati nella loro forma originale riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria costruisce ragionamenti formulando ipotesi sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri e allora come si può allargare e ampliare lo spazio rispetto all'esercizio sul calcolo dell'area che abbiamo visto precedentemente una prima una prima possibilità è questa aumentiamo oltre al calcolare che è sicuramente legittimo però aumentiamo la richiesta chiediamo di disegnare questi due rettangoli quindi abbiamo introdotto una nuova figura chiediamo che vengano fatti dei confronti su queste figure e poi spieghiamo qual è stato il ragionamento per poter ottenere il risultato apriamo ora però una parentesi che è imprescindibile dagli altri discorsi legati all'esplorazione in geometria quando forniamo un esercizio un problema che è corredato da un disegno attenzione il disegno non è un accessorio è il punto di partenza per esplorare soluzioni ci saranno sempre allievi magari un po' più divergenti che inizieranno a maneggiare a manipolare questi disegni per trovare delle possibili strade qualunque sia la richiesta che facciamo sull'esplorazione della figura e quindi è bene sempre verificare che quando forniamo un disegno siano rispettate le proporzionalità oppure le misure reali nel caso questo ci interessi ovviamente non è una questione estetica di bella forma è proprio una questione di sostanza perché la figura deve essere un appoggio un posto un luogo sul quale io posso prendere delle decisioni anche in base alle relazioni alle informazioni che magari attraverso lo strumento misuratorio riesco a rilevare guardiamo per esempio questa figura geometrica questo trapezio e guardo le dichiarazioni che vengono fatte AB misura 6 metri AB misura 5 metri ECD misura 4 metri attenzione perché in realtà questo trapezio non è coerente con le dichiarazioni che sono fatte nel testo delle misure infatti le misure non sono coerenti e soprattutto non sono proporzionali dall'immagine evidente guardate per esempio AD il lato AD che è dichiarato 5 metri e com'è possibile che allora CD che è evidente che dall'immagine sia più lungo misura solo 4 metri questa invece è la situazione in cui lo stesso trapezio però è dichiarato con le misure che rispettano la proporzionalità e anche c'è una coerenza e quindi in questo caso questa figura può essere proprio anche utilizzata per esplorare e quindi per trovare eventuali possibili strategie alternative che non avevamo immaginato un salto ancora di qualità rispetto al nostro calcolare disegnare aggiungerci la parte argomentativa per esempio è questo in cui chiediamo proprio di esplorare quindi si fa un salto in più e la richiesta come vedete è molto aperta lascia quasi in sospeso l'alunno nella ricerca della soluzione in quanto chiede puoi disegnare tre rettangoli diversi che abbiano ciascuno l'area di 19 cm quadrati e magari questa richiesta fatta su carta centimetrata qui vediamo due protocolli originali che parlano da soli si può vedere ogni tentativo fatto da questi due alunni si possono vedere anche degli stili relativi alle percezioni geometriche dei tentativi delle inesattezze anche delle imprecisioni che però attraverso i segni le cancellature ci garantiscono le strade che sono state percorse per ottenere questo risultato tra l'altro legato a un rettangolo di area 19 che non è propriamente facile da individuare se non si spaccano gli schemi e non si entra nel mondo dei decimali sulle due dimensioni vediamo ora una soluzione divergente a questo problema di individuare rettangoli di area 19 cm quadrati su una carta centimetrata ecco questo protocollo che a prima vista potrebbe sembrare così un tentativo marginale per trovare una soluzione in realtà è una miniera di informazioni preziose lo possiamo analizzare pezzo per pezzo per cercare di capire anche attraverso i segni che questa luna ha lasciato sul foglio quale sia stata la sua il suo ragionamento quale sia stata la sua via maestra per riuscire a ricavare la soluzione e vedremo che si tratta di una soluzione veramente profonda da un punto di vista matematico nella prima parte superiore vediamo il primo ragionamento ciascun quadrato intero ovviamente ha l'area di un centimetro quadrato e in base ai segni di questa luna si capisce che l'attribuzione di senso agli altri pezzi agli altri triangoli è di mezzo centimetro quadrato quindi si può facilmente individuare un modulo di 4 centimetri quadrati come segnato anche sul protocollo altra forma di rappresentazione in cui la composizione di rettangoli di area 4 centimetri quadrati ciascuno e quindi si procede a questo punto per moduli di 4 4 8 12 16 20 quindi nell'ultimo modulo c'è da maneggiare il risultato però mantenendo una coerenza rispetto alla richiesta ovvero 19 centimetri quadrati quindi bisogna trovare una soluzione per diminuire l'ultimo rettangolo dei miei moduli affinché non sia di 4 centimetri quadrati ma di 3 centimetri quadrati e questa è la soluzione nell'ultimo rettangolo si toglie un pezzo che così lo si vede scritto molto piccolo 0,25 quindi addirittura siamo a un quarto dell'area di un quadrato e quindi sommando anche empiricamente questi dati si trova questo rettangolo di area 3 centimetri quadrati ma che cosa succede? succede qualcosa in più quel qualcosa che ci fa capire che questa alunna sta tentando con tutti gli strumenti che ha di cercare delle strade per garantire ciò che è riuscita in qualche modo a individuare e quindi inizia a prendere le misure ovviamente utilizzando il righello e quindi le misure sono approssimate alla prima cifra decimale che è l'approssimazione fornita dallo strumento di misura e che cosa succede? succede una situazione un po' curiosa per questa alunna se controllo attraverso il conteggio ovviamente ho già visto che ottengo 19 centimetri quadrati ma se controllo attraverso il calcolo moltiplicando 13,4 centimetri per 1,4 centimetri ottengo 18,76 centimetri quadrati ma perché? che cosa è successo? chiaramente questa soluzione divergente è una meraviglia è una sorpresa è una risorsa personale tracciata su quel foglio e possiamo così riflettere che nuove strade nuove prospettive visioni inaspettate anche soluzioni incredibili creano ricchezza perché le soluzioni divergenti possono rilevarsi come intriganti e aprire spazi a nuove conoscenze un po' per tutti chiaro non si andrà a fondo perché non è questo il livello scolare nel quale si affrontano certi argomenti ma sicuramente anche una soluzione come questa è densa di oggetti matematici che verranno poi affrontati e consolidati in altri gradi scolari e adesso magari non si conoscono ci sono infatti i numeri interi ci sono i numeri razionali e ci sono perfino gli irrazionali come le radici infatti la misura della lunghezza della diagonale di un quadrato di lato un centimetro è proprio radice di due che è un numero irrazionale che ha infiniti decimali e quindi ogni tentativo di approssimazione è comunque limitante e se vogliamo c'è anche un pochettino il preludio al teorema di Pitagora e sono queste le motivazioni questo esplorare questo cercare tentativi che ci fanno capire il messaggio portato da questo protocollo sicuralmente sorprendente profondo e anche delicato è questo con le situazioni esplorative possiamo effettivamente aprire delle strade e anche però fornire alla didattica e alle sue metodologie più comunicative alle discussioni alle interazioni alle comunicazioni ai confronti collettivi o in gruppo delle possibili nuove strade per aprire apprendimenti che avranno bisogno poi di tutto il percorso scolare per essere approfonditi e consolidati è un'occasione da non perdere grazie a tutti